Pensiamo al secondo piatto con Luis Anna Messeri, che prepara un piatto serio a base di maiale. Prepariamo i fagottini di maiale con sorpresa. Ingredienti 4 bestecchine di maiale, 200 g fegato di maiale, 200 g rete di maiale, 85 g burro, 75 g sedano, 70 g scalogno, 70 g carota, 50 g cipolla, vin santo, rosmarino, salvia, alloro, aglio, prezzemolo, vimo bianco, brodo, olio evo, sale, pepe, cavoletti di Bruxelles. Procedimento Mettiamo il fegato a pezzettoni a spurgare in acqua per un'ora circa. In padella, facciamo rosolare un trito di sedano e carota con un generoso filo d'olio. Mettiamo a cuocere il fegato a cubettoni per pochi istanti. Uniamo gli aromi, ovvero rosmarino, salvia e alloro. Sfumiamo con il vin santo e, dopo pochi istanti, frulliamo il tutto finemente insieme al burro ed il prezzemolo tritato, in modo da ottenere un patè. In un'altra padella, facciamo soffreggere il trito di sedano, carota e cipolla con un filo d'olio ed uno spicchio d'aglio. Mettiamo a rosolare le braciole di maiale. A metà cottura, le togliamo dalla padella e le facciamo raffreddare completamente. Posizioniamo ciascuna bracciola sulla rete di maiale. Spalmiamo sopra un po' di patè di fegato, sale, pepe ed una foglia di salvia. Richiudiamo la rete di maiale sulla bracciola, posizioniamo su una teglia con un po' di vino bianco ed inforniamo a 200 grado per 30 minuti, fino a far dorare per bene i fagottini. Serviamo con cavoletti tagliati a metà, sbollentati e conditi con olio e pepe. Errori.